Questo è un assurdo, la mia macchina è ferma qui, voglio vedere chi è che ha il coraggio di spostarla, noi faremo di tutto per non far passare questa cosa. Da oggi però quella macchina non c'è più, il motivo è presto detto. Una serie di colloqui tra i residenti del condominio Parco delle Rose e l'amministrazione comunale, sindaco ed assessore in primis, hanno partorito una soluzione di compromesso che accontenta tutti. Il passaggio ciclopedonale ci sarà, i parcheggi pure e la strada di accesso alle abitazioni non verrà ristretta. Il percorso verrà ricavato all'interno del verde pubblico che verrà anche riqualificato a tutto vantaggio della sicurezza del luogo. Pace fatta a capo A quindi, questa mattina siamo ritornati dai residenti che ci hanno accolto con toni ben diversi rispetto a quelli della prima volta. Conoscendo un po' le cose, ci siamo trovati nella determinazione che l'amministrazione comunale ci ha proposto delle cose. A noi queste cose che Giulio ci ha proposto ci andavano abbastanza bene, anche se nella continuità dei lavori noi saremo qui a seguire, a vedere, come ha detto l'assessore, se c'è qualche piccolo dettaglio da rivedere si può sempre rivedere. L'importante è che la struttura non venga occupata, il nostro parcheggio, il nostro passaggio per andare dentro il condominio, la pista ciclabile si farà all'interno dove è attualmente la siepe, perciò dovrebbe essere libera da ogni rischio che può venire fuori. Noi avevamo previsto di avere una pista ciclabile un po' più larga, ma siccome sempre con la questione finanziaria dell'amministrazione comunale, ha detto che faranno una pista di un metro e mezzo circa. Vabbè, stiamo a vedere, vediamo come vanno le cose, la continuità delle cose secondo me dovranno essere imminenti e stiamo a vedere e vediamo. Ecco, tra l'altro anche il parco avete piacere che venga rivitalizzato. E saremo anche chiamati a collaborare per vedere qual è, scegliere soluzione migliore e quindi speriamo bene. Un parco vive vitale e evita anche problemi di nodi, di vagabondate. Esatto, soprattutto di far arrivare gente che dovrebbe essere da un'altra parte.